L'onorevole Fregolent, un primo commento caldo, siamo oltre il 50% delle sezioni scrutinate, grande vittoria di Chiamparino e del Partito Democratico. Questo risultato non ci può che far piacere perché segue il giorno dopo quello straordinario delle europee e quindi è un trend che da due giorni ci vede protagonista in positivo. Non avevo dubbi sulla vittoria di Sergio Chiamparino perché rimane il sindaco d'Italia e in questa campagna elettorale che tra l'altro lui ha fatto in maniera assolutamente perfetta andando in mezzo alla gente, non facendo venire alla gente da lui in convegni allucinanti, si vedeva e si sentiva l'affetto che ancora i torinesi, non solo, tutti i piemontesi hanno nei suoi confronti. Quindi la persona giusta, il momento giusto perché la Regione Piemonte ha bisogno di ritornare, essere credibile come istituzione in mezzo ai piemontesi e Sergio Chiamparino è la persona giusta, il momento giusto.